Il centro di urno di via Berlinguer a Giarre con l'affidamento alla cooperativa sociale di Macchia Aurora ha iniziato la sua fase sperimentale con un progetto che scade il prossimo 31 dicembre. La struttura residenziale realizzata con fondi della regione Sicilia entra dunque finalmente in funzione a distanza di oltre un anno dal completamento delle opere. Positivo anche il riscontro dei funzionari del Genio Civile che su richiesta della regione avevano il compito di verificare la messa in esercizio della struttura pubblica per lungo tempo priva di agibilità e adesso finalmente pienamente operativa sotto il profilo tecnico. Il centro di urno di via Berlinguer che rappresenta un luogo di accoglienza e che promuove l'integrazione sociale potrà essere fruito in questa prima fase sperimentale da 30 anziani età minima a 60 anni sia per gli uomini e le donne. Persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti ma comunque con bisogni minimi di assistenza garantiti anche dal personale della struttura e quindi previa autorizzazione del servizio comunale. Le selezioni sono ancora in corso. Riguardo invece la gestione definitiva del centro si attende invece il bando ancora in fase di definizione. Il plesso di via Berlinguer assicurerà comunque i propri ospiti assistenza nell'igiene personale, assistenza consumo, pasti portati da casa, attività di animazione, aggregazione sociale, ricreativo culturale, ascolto musica e proiezioni film. Il plesso di via Berlinguer resterà comunque aperto tutti i giorni e escluse le festività dalle 9 alle 17.